Coltivazioni innovative in Calabria, un bando da 10 milioni di euro per i piccoli frutti a gusce, un bando da 15 milioni di euro per frutta tropicale e subtropicale. I bandi, spiega l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, sono finalizzati alla concessione di sostegni per interventi di nuovi impianti e reimpianti arborei, nonché per impianti di efficientamento dei sistemi di irrigazione. Con fondi della programmazione PSR 21-22 a seguito di modifica strategica, parte il primo di una serie di bandi, bando sulla frutta a gusce, nocciolo, nelle settimane passate abbiamo incontrato e tra poco sottoscrivemo un accordo con la multinazionale Ferrero per l'acquisto delle nocciole prodotte in Calabria che saranno made in Italy, quindi nocciole ma anche mandorle per le quali è particolarmente vocata la zona ionica, pistacchio perché io ritengo che anche la Calabria in alcuni areali sia particolarmente vocata alla produzione di pistacchio e poi per le aree interne più elevate noce e castagno che sono coltivazioni caratteristiche della nostra regione. A questo bando dedicheremo 10 milioni di euro perché riteniamo che l'investimento nel settore della frutta a guscio con questo bando settoriale sia un investimento di grande importanza per il quale confidiamoci sia una risposta da parte degli agricoltori calabresi in termini di investimenti ma soprattutto in termini di innovazione. Altro bando della programmazione PSR 21-22 a seguito di modifica strategica, bando settoriale e un bando dedicato alla frutta tropicale. In alcuni areali della nostra regione gli esperimenti finora condotti dai nostri imprenditori sono esperimenti positivi, mango, papaya, avocado, annona. Sub tropicale il kiwi per il quale già la nostra regione, per il kiwi giallo e il kiwi verde, è fra le prime regioni produttrici del paese. E poi un altro bando per i piccoli frutti, mirtilli, ribes, lamponi, more, che saranno realizzati in piccole serre da parte dei nostri agricoltori e di imprenditori ericoli, speriamo sempre più giovani. Un investimento importante, 15 milioni di euro, destinato quindi a coltivazioni innovative perché la modifica della situazione climatica con l'elevamento delle temperature ha reso possibile queste coltivazioni anche nei nostri areali, che potranno in questa fase probabilmente aumentare anche i ricavi dei nostri agricoltori e dei nostri imprenditori. Noi ci puntiamo molto.